Luciano Gualzetti, direttore della Calezza Lambrosiana, dopo il suo intervento vi pregherei di rivolgere preferenzialmente le vostre domande prima al dottor Valente che alle 4, 5 alle 4 dovrà sentarsi per prendere l'aereo, quindi se prepariamo delle domande diamo preferenza a lui e poi il resto continuiamo con gli altri interventi. Grazie.